Presentato nella splendida cornice delle Dolomiti Ford Ecosport con Intelligent All-Wheel Drive, esalta le doti di praticità e funzionalità tipiche del SUV compatto, oggi in una versione più versatile adatta alle esperienze di guida off-road. Ford ha voluto mettere alla prova la nuova trazione intelligente su un percorso difficile che si arrampica sulle salite intorno a Cortina d'Ampezzo. Disponibile anche nell'allestimento ST-Line ispirato alle Ford Performance Cars, Ecosport offre numerose opportunità di personalizzazione, tra cui accattivanti colori a contrasto per il tetto. A bordo viene integrato un touchscreen che può essere da 8 o da 6,5 pollici, a cui si aggiungono il volante riscaldato e il sistema audio premium Bang & Olufsen Play. La tecnologia di trazione intelligente valuta automaticamente il livello di aderenza delle ruote alla superficie della strada e trasferisce la distribuzione della coppia fino a 50 e 50 tra l'asse posteriore e quello anteriore, in base alle condizioni di guida, adeguandola in 20 millesimi di secondo. Ciò garantisce una transizione fluida della coppia fra tutte e quattro le ruote. Il sistema è basato su un insieme di tre sensori che sono fondamentalmente installati, uno sul volante, l'altro sul veicolo e il terzo sulle ruote. Sulla base dei dati raccolti da questi sensori, quindi sulla base della velocità che ha il veicolo e sulla base di quello che è l'input del guidatore, quindi al volante, l'algoritmo stabilisce un modello predittivo del comportamento del veicolo sul tipo di asfalto che viene percorso in quel momento e quindi gestisce la distribuzione della coppia di conseguenza in modo fondamentalmente da evitare che ci siano degli slittamenti delle ruote stesse. La nuova trazione intelligente Ford viene offerta in abbinamento al nuovo motore diesel Ford EcoBlue da 125 cavalli e 300 Nm di coppia con cambio manuale a sei rapporti. SYNC 3 è invece un sistema completo e facile da navigare basato su un touchscreen disponibile nelle versioni da 6,5 e da 8 pollici, che garantisce prestazioni ottimali nelle operazioni di swipe e pinch to zoom, oltre che elevata reattività. Inoltre Ford offre un tipo di connettività con gli smartphone che garantisce neutralità rispetto al fornitore, non sempre presente con vetture di altri brand premium. Quindi l'auto si connette automaticamente e in maniera fluida sia con i dispositivi Android che con quelli iOS. Grazie alle nuove tecnologie in termini di turbocompressione, iniezione e riciclo di gas di scalico, il motore 1.5 diesel del Ford EcoSport rappresenta un'evoluzione all'interno del panorama del parco motori di Ford. Questo consentirà di ridurre in maniera considerevole le emissioni e al tempo stesso preserva la piacevolezza e la guida tipica dei veicoli Ford, soprattutto per quanto riguarda la linea ST-Line di cui fa parte il modello di Ford EcoSport che in questo momento sto guidando. Il nuovo Ford EcoSport contempla una serie di soluzioni per migliorare la sicurezza alla guida servendosi anche dell'intelligenza del veicolo. Quindi il nuovo sistema di cruise control con limitatore della velocità ci consentirà di avere una guida piacevole anche sui lunghi tratti, mentre la retrocamera posteriore ci consentirà di eseguire anche le manovre più complicate con un certo comfort. Ma non è solo questo perché abbiamo anche delle vere e proprie soluzioni di sicurezza come il monitoraggio degli angoli ciechi per quanto riguarda i specchietti retrovisori che è il cosiddetto BLIS. E poi abbiamo anche il controllo di trazione automatico, cioè una regolazione dei due pneumatici a prescindere dalla superficie. Mentre prima abbiamo parlato di fuoristrada, il controllo di trazione di cui è dotato Ford EcoSport ci aiuta a gestire in maniera automatica il comportamento dei due pneumatici in funzione appunto di quella che è la nostra guida. La nuova generazione di EcoSport si presenta con un design deciso dai tratti marcati tipico dei SUV dell'ovale blu con stilemi condivisi con Kuga ed Edge. Il cofano è scolpito centralmente per offrire un aspetto del frontale più lineare con ugelli lavavetri occultati sotto il profilo. Il design anteriore raccoglie la tipica griglia trapezoidale dei veicoli Ford. Quello che sto guidando in questo momento è un modello ST-Line e lo si può capire dalle rifiniture eleganti e sportive tipiche dei modelli della famiglia ST-Line e gli altri veicoli Ford. Inoltre abbiamo un motore da 125 cavalli che dà la sensazione di piacevolezza, di sportività e chiaramente rappresenta un'esperienza di guida completamente diversa rispetto a un Ford EcoSport in allestimento tradizionale. Il nuovo SUV compatto di Ford allo stesso tempo garantisce alta qualità e una consistente serie di miglioramenti rispetto al recente passato, come spesso capita con i modelli Ford disponibili in quattro varianti, Plus, Business, Titanium ed ST-Line. Ford EcoSport con prezzi che partono da 19.000 per allestimento Plus e da 23.500 per ST-Line.